Amici e amiche, fanboy e fangirl, l'attrice più in voga del momento sta per arrivare al cinema con ben due film. A luglio ci beccheremo Tarzan e ad agosto Suicide Squad, dove la meravigliosa Margot Robbie interpreterà Harley Quinn. Dunque voglio raccontarvi 15 mini curiosità che forse non sapete sulla nostra attrice preferita di quest'anno. Cominciamo! Voi pensate che sia una giovinotta? Effettivamente sì, è del 1990, cioè un anno più piccola di me. Viene affettuosamente chiamata dai suoi amici e familiari Maggot, che letteralmente significa verme, però sono affettuosi eh. Per la scena di sesso con Leonardo DiCaprio si è sparata tre shot di tequila alle 9 del mattino, cosa che faccio pure... non è vero. Al provino per il film, per impressionare, il regista e l'attore ha colpito Leo in faccia e sono tutti scoppiati a ridere. E scorsese è la scelta per il ruolo. È un membro di Greenpeace, cioè non è che combatte le baleniere nell'oceano eh, però sicuramente ci tiene. Ha deciso lei di apparire nuda nella famosa scena di The Wolf of Wall Street in cui seduce Jordan Belford mostrandosi nuda alla porta. Ha affermato che era la cosa più realistica da fare per il tipo di personaggio che stava interpretando. Ottima scelta, grazie. Non è per niente modaiola e le piace per lo più indossare short, magliette e all star. Nonostante la sua bellezza sia sotto gli occhi di tutto, ha affermato di essere stata spesso singola e di avere avuto sempre problemi a trovare un fidanzato. Ma comunque ora ne ha uno da parecchio tempo. È stata coinquilina di Cristina Ricci, la tenera bambina di Casper. Ha fatto la paninara. Infatti prima di diventare famosa ha lavorato per Subway, il noto franchise di Fast Food. E a quanto pare era una vera maga nel preparare sandwich. È una scatenata tifosa di hockey su ghiaccio e in particolare dei New York Rangers. Ci sono foto di lei che impazzisce sugli spalti, quindi... Sapevate che ha rifiutato una grossa offerta per apparire su Playboy? E sapevate che a me questa cosa dispiace molto? Dovevate offrirgliene di più. I tabloidi di tutto il mondo le avevano appioppato un affaire con Will Smith, nato durante le riprese del film Focus. La cosa poi però si è rivelata infondata. Ah ma ha alla follia patatine, hamburger e birra. E pure io. Quindi credo che potremmo andare d'accordo. Nel 2015 è stata votata Occhi più sexy al mondo da Victoria's Secret. Nonostante questi facciano abbigliamento però. La vedremo mai sfilare insieme agli altri angeli? E con questa domanda noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Vi ricordiamo nuovamente che interpreterà Jane in Tarzan e Harley Quinn in Suicide Squad. Con la quale ha già fatto impazzire milioni di fan in tutto il mondo. Noi non vediamo l'ora, e voi? E ricordatevi che se volete essere sempre aggiornati su tutte le belle cose che facciamo, scaricate la nostra app Screen Week TV. Ciao! Ciao!